Salve a tutti ragazzi, io sono ProCione e benvenuti in questo nuovo gameplay di ForoMove Allora, io direi di iniziare subito in modalità multigiocature Ragazzi, a questo gioco ci ho già giocato un po', ho fatto sia il tutorial normale che quello avanzato Ho fatto giusto giusto qualche partito online, ma 1-2 Quindi sono molto scarso E direi di buttarci in gioco direttamente Oh, finalmente ho trovato una partita Allora ragazzi, questo gioco, molto ben fatto Mi piace abbastanza il gameplay Intrattiene parecchio però, ha un grosso problema che sono i server Ragazzi, ci vuole mezz'ora per trovare una partita E se ti va bene, te ne fai una su 5 Le altre 4, o Crashy, o Crash a Lost, o qualcuno qui Vengono sostituiti tutti dai bot Però quella volta che va bene ragazzi, è davvero un bel gioco E ho già giocato un po', come vedete Ho giocato con la quartiana, il pacificatore e il giustiziere E adesso andrei di pacificatrice Finalmente è finito il caricamento infinito E andiamo subito al gioco Allora nella modalità dominio Dobbiamo pushare tre strade Dobbiamo conquistare gli obiettivi A, B e C Questi obiettivi possiamo conquistarli Stando nella zona delimitata dalle linee bianche Il più tempo possibile Allora, loro non ci hanno preso A Noi però abbiamo già preso C E qui è dove succede tutto il casino ragazzi La linea di mezzo Che abbiamo quasi conquistato No, tu sei figlio di Troia Eh, scappi eh Allora, stiamo molti attenti Perché ragazzi, il nostro personaggio È bello agile Però, prende un casino di danno No, ecco appunto No, 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 via Ma come cazzo fa questa Ad essere più veloce di me Ma non c'è senso sta cosa Scappiamo, scappiamo Aiutiamo il nostro alleato No Se ne è scappato Perfetto Ah, ma lì c'è uno dei nostri Andiamo ad alzardo No Vabbè Allora ragazzi, siamo in Un bel vantaggio rispetto a loro Cerchiamo di mantenere questo vantaggio Il più possibile Perché il primo che riesce a riempire Una di quelle barre in alto a destra Vince Allora, nelle mischie Il nostro personaggio È davvero buono A quanto sto Constatando No Il Kensei Con il Kensei Mi rompe il culo No Vaffa culo Vaffa culo No no Questo se ci butta giù Ragazzi siamo morti Quindi stiamo molto attenti Allora Qui Prendiamoli da dietro Eh no Ma sei bastardo Sei No 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 Vaffa culo No Mi ha preso Quanto stiamo Due uccisioni e due morti Per il momento Eh insomma Potremmo fare di meglio Torna in vita Procio Procio Eccoti qua No Sei stronzo Sei Curiamoci No La stamina La stamina La stamina Allora Se finiamo la stamina Siamo morti Quindi Teniamola in mente Perché non possiamo Né attaccare Né scappare Praticamente Direi di andare A riprendere Come prima cosa Poi se magari Se riesco Vado a prendere Proprio A Qui T'ho visto Stronzo Infatti sotto Il royal No Eh sei stronzo Ah no Sei il mio Alliato Perfetto Hai catturato La zona C Perfetto Mamma Mi ha costruito Questo No 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 Eh Figlia di droia Va bene Perfetto Allora Siamo comunque In svantaggio Nonostante Gli abbiamo appena ucciso Tutta la squadra Perché I minion Da soli Non busciano Praticamente Senza Qualcuno Che gli da una mano Sono totalmente Inutili Morici No Non c'è Allora Abbiamo riconquistato B Io direi Di fare una corsa In A Se riuscissi No 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 Mi siete bastati Siete No 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 Siete bastati Siete Ho fatto una cazzata Mi sono chiuso da solo Sono un genio ragazzi Allora Siamo in rutta Cioè siamo per perdere E praticamente In questo lasso di tempo In cui siamo in rutta Non possiamo respawnare E siccome ho visto che tutti i miei alleati Sono morti Siamo due lì E un altro chissà dove cazzo sta vediamo Sta tornando indietro Sì E vabbè giustamente non può fare nulla Abbiamo perso ragazzi E vabbè Sarà per la prossima partita Io direi Di fare un'altra partita Però stavolta in modalità Duello Praticamente la modalità duello Una modalità umo contro umo Senza minion e senza Un cazzo senza zone da conquistare Ma è solo un combattimento Fra un giocatore e un altro Ed è quello che mi piace di più Per il momento Quindi proviamo A trovare una partita però appunto Ragazzi serve e fanno schifo E Ci vediamo qualche buone Oh Ha trovato una partita Siamo contro tempestato Cazzo di nome Vabbè Mettiamo di nuovo La pacificatrice Perché mi sta piacendo un casino E inoltre secondo me Il pvp è molto buono Perché è molto veloce Adesso lo proviamo subito Il pvp ancora non l'ho provata Quindi non saprei dire Ho provato il giustiziere E ragazzi Pvp Forse sono io che non mi ci trovo Però finisce troppo presso la stamina Quindi Non è proprio cosa Adesso caricamento di tre ore E ci vediamo direttamente in partita Allora come funziona in questa modalità Come vedete ci sono cinque round Il primo a vincere tre round di seguito Non di seguito scusate Tre round in totale Vince la partita Allora Siamo molto attenti alla stamina Qui vorrei buttarlo nel fuoco Oh ci siamo colpi più efficienti Vaffanculo troia Ora abbiamo entrambi poca vita Vediamo se magari Riusciamo No come cazzo Ci ha ucciso Allora avevo la posizione dell'arma verso destra Ma lui mi ha colpito lo stesso Non so come Forse ho sbagliato Forse ho sbagliato Io ho fatto Non lo so Riproviamo Allora 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 Quando gli rompo la guardia E poi faccio l'attacco leggero Fa quella piccola infilzata Diciamo Col coltellino Che non è affatto male Perché mette Veleno No 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 Assolutamente No Sbagliato Vabbè Secondo round Perso Anche questo Riproviamo Col terzo round Se perdiamo anche questo Abbiamo perso la partita Oh qui c'è la lava Vorrei anche provare A buttarlo nella lava Per vincere immediatamente Però mi sa che non le farò Perché vincere così Secondo me è un po' Danato Lì Venire qui Cesso Guarda Come fa a colpirmi Con Con la stessa difesa No Trovai No Che cazzo No No Ci sono morto Ci sono andato dentro Non ho idea di perché Lui riesco a colpirmi Nonostante la mia arma Sia nella stessa posizione Della sua Forse è un'abilità speciale Di questo Del suo eroe Non ho idea Allora Eccoci di nuovo Contro Tempestato Vediamo Stavolta Cosa riusciremo a fare No Sto passato Mi voglio buttare giù Guarda Questo fa un Cassino Di danno Però Madonna No la stamina La stamina La stamina La stamina Scappiamo Scappiamo No Sei bastardo Però sei No Qua ci vado giù Ci vado giù No Ho fatto troppo presto La rottura di guardia Eh bello qui No No Faffanculo Allora Sto imparando Cioè sto capendo un po' Più o meno Come gioca lui No Ci siamo colpiti a vicenda Stamina Stamina Ora il Lo scontro uno a uno È abbastanza lento Perché entrambi i giocatori Sono molto concentrati E nessuno Si avvicina mai Diciamo A meno che Non è proprio sicuro Di colpire Come in questo caso O se non è Cogione Come me No Basta Eh Basta Troia No Ci sono rimasto Non sbagliare Non avrei dovuto Attaccare Avrei dovuto Parare quell'attacco Ma mi sta facendo Il No Sei un figlio Di troia Tempestato Sappilo Allora Terzo round Riproviamo Questo ci stupra Anche adesso Dai Vieni qua Vieni No Sei Sei bastardissimo Sei bastardissimo Vabbè dai Però sei figlio di buttata Sei il bel tu Prossimo scontro Stavolta Non con tempestato Perché mi sta Stuprando Però con qualcun altro Vediamo Chi troveremo Un Bungard E Proviamo 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 Il Ken 6 Sì ma Questo è a livello 15 Questo mi apre a metà Primo round Allora Vediamo cosa riusciremo a fare La dura Mamma che cazzo Di danno Che fai Che cazzo No Eh Vaffanculo Vaffanculo Assamina Oh che cazzo Si sta caricando Tipo un attacco Non ho idea Mi sa di si Morici Perfetto No potevo fare L'esecuzione Non l'ho fatta Eh vabbè Finalmente Siamo riusciti A vincermi una Vediamo al secondo round Cosa succederà Ma questo Mi fa abbastanza paura Perché ho visto Che fa Quell'attacco caricato Che fa un casino Di danno Ma ho tolto Quasi mezza barra Di la vita Madonna 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 Vai No Ma sei bastardo Bellissima Questa finish Che cazzo Che ti fa Il stronzo Che prima Ti ho ucciso Vabbè Mongoloide È questo Terzo round Terzo round Ragazzi Questo Non voglio perderlo Vieni dai Troia No cazzo Pensavo di riuscire Per esquivarlo Vaffanculo E questa Te la meriti Tutta Troia Quarto round Se vinciamo La partita Si aggica Mu Se perdiamo Dobbiamo andare All'ultimo No No Strunzo No No E Figlio di troia No Questo Ci uccide Si E infatti Ragazzi Ultimo round Chi vince Si aggica La partita Cerchiamo di fare Il nostro meglio Stiamo attenti Soprattutto A quando Ci rompe la guardia E a quando Passa Cazzata E No Sei bastardo Sei No Questa ci ha stuprato Non siamo riusciti Proprio a colpirlo Ah vabbè Vabbè ragazzi Io direi che Per oggi è tutto E Non so se farò Una serie Su Forogor Il gioco Mi sta piacendo Molto In caso Decidessi di fare Una serie Ve lo dirò In un Eventuale Secondo Episodio E quindi Per oggi è tutto E ci vediamo Alla prossima